ho preso una schiena da 128 giga adesso mi segna che posso riprendere per 5 ore è un botto ciao 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 grazie capisco domenica c'è il sole cos'è la falsa? falsa pita stiamo andando all'Udeca a vedere la mostra noi abbiamo visto il cambio dov'è che dobbiamo andare? non lo sappiamo a capire che stai sognando e fai quello che vuoi a me è successo solo una volta ed è stato fighissimo mi ricordo che ero sulla punta di un palazzo e dicevo minchia se salto giù muoio e poi ho detto no cazzo raga è un sogno lo saltavo e volavo ti cridi di me? voi sapete dove c'entra veramente la mostra? come è in questa condizione? non lo so stiamo cercando anche noi ma è il simbolo dell'alfa quello lassù? è il simbolo di Milano la via te l'ha subito dopo ma che cazzo? ti racconto prima settimana di Politecnico arrivo al Politecnico col mio zainetto così col che c'avevo della merenda non c'avevo lo zaino ma c'avevo la cartella la pece rossa in cazzo c'è qualsiasi cosa io posso aggiungere io posso dire che le ti parli che le faccio dai cosa hai detto nuora? e questa è la fila per Banzi non è tutta palazzo siamo regalati con te la vicenda ci siamo scambiati 5 euro allora è annullata la maledizione cosa non si regala? le superstizioni mi stavo cambiando tipo il cappello mi è caduto e lo racconto da terra l'ho messo sul letto mi sono andata tipo ha iniziato e si è messa a scuotere la giacca fuori dalla cazza il cappello sul letto significa che stai atturando morte e portando il diavolo in casa e tu quindi devi scrollare dalle spalle il diavolo quindi prendi la tua giacca, il tuo giacone e scrolli via dalle spalle la roba solo che lei mi ha preso e mi sta a sbattere fuori è sparato giù il mio instagram ma non l'ho vista ho delle perdite di memoria cosmiche c'è cazzo lo metterò anche in questo pezzo sponsor un biglietto un biglietto un biglietto anche in questo pezzo un biglietto un biglietto un biglietto un biglietto un biglietto E' una di queste lampe dei 425 E' un posto di nome Che c'è Il comfort è in offerta. Bello dicono anche dietro. Dicono che è come. Crenzi Madonna si vede dalla gopro. Ma che bello Vedi che c'è da una porta da terra una cinese del tavolo sulle spalle. Ecco il vostro tavolo Ogni quanto lo fanno il derby La cucina escono delle pizze e praticamente tipo quando fai passare Come Programma Puoi decidere di fare l'attività di collo a un foglio oppure di commenti. Il tutto Scendendo anche un target preciso. Fai conto che lo rilevi facilmente e vai su ninjarytics Dice subito se Ma lo vedi proprio tu dall'istagrame Picchi assurdi Non deve pubblicare a cazzo Non deve pubblicare a cazzo. Fendenzialmente dicono che per tutti è la sera. Ci sono poi i giorni preveniti ma si dipende da tutti Io non credo che ci siano rarifissimi Non più tardi nelle 22 Ti consiglio prima delle 9 del mattino A me ne ritrova un posto di foto di gente che prende il cammino Quindi buongiornissimo e il YouTube è destinato ai cinquantenni che bevono sotto Però ad esempio una cosa buona da fare per i video su YouTube è tornare a essere poverito Perchè? Perchè il tendenzialmente c'è più traffico Perchè YouTube è anche da cuore molto giovane Under 25 Under 25 va a scuola E alle due soltate Il motore di ricerca migliore Nel social network è da YouTube Il YouTube veramente ti permette di fare quello che tu vuoi Il motivo per cui il GTV non funziona è quello E non è per i video verticali Prima di tutto la gente non ha capito che se Instagram è pensato per essere 9 e sedicesimi e non sedicinoni Non puoi fare il video per così e puoi girare al contrario La gente del GTV non gira al telefono E secondariamente mi funziona meglio i video in cui c'è una persona che parla Grazie 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 Non so cosa vedrete adesso da questo video raga Praticamente da dopo la pizzeria La GoPro era rimasta con il 2 o il 3% di batteria E poi dopo non ho più filmato praticamente Se non poi quando sono tornato in treno Che mi sono accorto di avere ancora una batteria carica E meno male perché così almeno posso finire il video Comunque sono contento che sono venuto anche a salutarvi ragazzi Quindi ciao Dani, ciao Spotti Grazie per il weekend Seguitelo Mattia Spotti Fa un sacco di roba Lavora con un sacco di aziende Comunque uno fortissimo Però no ragazzi non ho neanche la forza di parlare Siamo ad aprile Questo mese tanto sognato e tanto temuto è arrivato Vi aggiorniamo nel prossimo video Bella zi